Ciao a tutti da Francesco Nano di scuolasuono.it, ben trovata o ben trovato, questo è il quinto appuntamento della serie Vivere della propria musica con 2500 euro al mese. Utopia, realtà, secondo me è una realtà e lo scopriremo solo vivendo. Allora, in questa puntata desidero parlare di una cosa molto importante per quanto riguarda l'autoproduzione e l'autopromozione, ovvero la cosa che sto facendo io in questo momento, sto videocomunicando. Parliamo oggi di videocomunicazione, dell'importanza di vedersi in faccia. Come tu ben sai, ho strutturato scuolasuono.it per lavorare praticamente unicamente con i video di testo, c'è davvero molto poco. Questo ha dei vantaggi e presenta anche dei notevoli svantaggi, però mi dà la possibilità di portare avanti un concetto di questo tipo. Allora, tu probabilmente non mi conosci di persona, sono pochi gli utenti che hanno avuto l'onore di conoscermi di persona. In realtà però spesso ricevi le mie e-mail. Tempo fa avevo un sito che è ancora in piedi, ma diciamo non lo sto più seguendo, si chiama scuolasuono.com, che era basato unicamente sul testo, quindi i miei utenti ricevevano solo delle e-mail e potevano leggere degli articoli, insomma. Poi ogni tanto ho fatto degli audiocommenti, insomma, ma poche robe. Era un blog normalissimo. Con scuolasuono.it, che è partito a gennaio di quest'anno, ho deciso di stravolgere questa logica, ho deciso di mettermi in gioco in prima persona, di metterci la faccia e questo l'ho fatto per una ragione fondamentalmente, perché su scuolasuono.it, che è il mio regno, diciamo, il sito è mio, su questo non ci piove sopra, perché pago lo spazio web, pago la banda che tutti gli utenti consumano, quindi qua siamo nel mio regno. E nel mio regno ho deciso questa regola. Desidero che partecipino e si divertano e possano trarre vantaggio dai contenuti di scuolasuono.it solamente quegli utenti ai quali non sto cordialmente antipatico. Nel senso, quelle persone che non provano ribrezzo quando mi vedono, mi sentono parlare, e che, anche se magari certe volte non sono d'accordo con me, e muovono anche delle giuste critiche, che io molto spesso valuto sempre, molto spesso tengo in seria considerazione. Adesso mi sono perso il filo di discorso, comunque stavo dicendo che in pratica queste persone qua sono quelle persone che mi conoscono e che, se non mi apprezzano in assoluto, ma insomma hanno a che fare con me, come con una persona in carne ed ossa, quasi, nel senso che io purtroppo molti di voi non li conosco, però tutti mi avete visto nei video e quindi so che la mia platea, coloro che leggono le mie email e le aprono e magari cliccano il link che suggerisco perché ci sono dei contenuti prodotti da me, sono tutte persone che mi conoscono, sono persone che mi hanno visto in faccia. Tu probabilmente avrai già sentito alcuni dettagli della mia vita, avrai sentito per esempio il fatto che sono un ex batterista, una volta suonavo la batteria, che poi a un certo punto mi sono reso conto di non essere tremendamente portato come avrei sperato per andare sulle orme del mio maestro, il mitico Paolo Muscovi e a un certo punto ho deciso di lasciare, mi sono dedicato al discorso tecnico del suono. Poi per una serie di coincidenze, questa passione nonché attività, l'ho trasportata su web e ho creato dei corsi per tecnico del suono. Probabilmente sai anche, ad esempio, il fatto che sono riuscito a registrare un intero multitraccia di un disco in maniera molto professionale partendo con, praticamente con, si direbbe qua con le pezze sui pantaloni, no? Due microfoni, una scheda audio e basta. E con quelli sono riuscito a portare, diciamo, a casa un bel multitraccia che poi è stato mixato in un bellissimo studio delle mie parti, della mia zona, ossia l'Angels Wing di Nico Odorico che ogni tanto ti ho già accennato. e quindi alla fine sono riuscito a creare, praticamente, un disco professionale con poco budget, in definitiva. Tutti questi elementi, tutte queste considerazioni, tu probabilmente, forse le avrai già sentite, forse è la prima volta che le senti. Comunque, se ti riguardi tutti i miei video, ogni tanto racconta un pezzetto di me, della mia storia, di quando andavo da Roberto, il mitico aiutante magico dei batteristi triestini. trovi queste cose nei miei video. E ti dirò la verità, che non le metto, diciamo, non le espongo in maniera casuale. Io sono fondamentalmente una persona timida, quindi ho fatto fatica ad iniziare a creare video blog, video post e a mettermi in gioco e a raccontare anche un po' dei dettagli della mia vita. Ovviamente non i dettagli più personali, più intimi, però sicuramente queste cose che ti danno la percezione e di che persona sono. A questo punto tu puoi decidere che ti sto antipatico, ti cancelli dalla mia mailing list, io sono contentissimo. Oppure se mi apprezzi, se ti sono simpatico, sono felice che tu rimanga iscritto al mio sito, alla mia mailing list, perché proprio in questa maniera qua ho la possibilità, sembra strano, però per me è molto importante, di selezionare anche i miei clienti, perché tu sai bene che scuolasuono.it si occupa di formazione per musicisti, esattamente come stiamo facendo in questo momento, che in parte è gratuita ed in parte a pagamento. Ovviamente a pagamento, cioè fa sempre piacere riuscire a vendere un prodotto in più, però sinceramente ho deciso di limitare leggermente queste vendite a fronte di una selezione della clientela che è una clientela che mi ha in simpatia insomma, cioè sto cercando comunque di scremare i più antipatici. Ci sono quelli che hanno anche più fiducia in me, perché se tu sei mio cliente, hai visto che intanto, prima o poi rispondo sempre alle email, alle lamentele se ci sono, ai dubbi, comunque quando acquisti un prodotto da scuolasuono.it quello che c'è scritto sulla pagina di presentazione lo ritrovi all'interno del prodotto, non mi è mai capitato che qualcuno mi abbia detto si sia sentito imbrogliato insomma e sebbene a suo tempo mi sia capitato di lamentele anche feroci come sono normali insomma nel mondo del commercio, perché non tutti siamo uguali, non tutti abbiamo la stessa sensibilità, poi metti anche qualche problema tecnico da parte mia, qualche problema è successo insomma in passato, ecco queste lamentele si sono ridotte veramente al minimo da quando sto lavorando con i video, perché le persone hanno la percezione di avere a che fare con una persona reale ed in effetti se tu mi scrivi un'email, prima o poi comunque io ti rispondo, io spendo molto del mio tempo a rispondere alle email di chi mi iscrive, magari non riesco ad esaudire i desideri di tutti, però sono una persona fisica in carne ed ossa, quindi il ragionamento che sto facendo è questo, tanto più se lo faccio io che è un sito di formazione per musicisti, la stessa cosa per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il sistema scuola suono per vivere di musica propria con 2500 euro al mese, questo è un cardine fondamentale per una band o per un artista, cioè dal mio punto di vista un artista non può prescindere dalla videocomunicazione, che non per forza deve essere statuaria come sto facendo io adesso, però potrebbe essere la realizzazione dei video in sala prova, il coinvolgimento dei tuoi fans nella conoscenza del tuo ambiente, del tuo studio di registrazione, del fatto magari che hai un animale domestico al quale tieni molto, del fatto magari che il tuo bassista o il tuo batterista amano fare windsurf, come tra l'altro io ho il piacere di iniziare ad approcciarmi, ho deciso che quest'anno ci provo, insomma, se mi regge la tavola. Insomma, di iniziare in una certa maniera ad averti in familiarità. Perché questo? Tanto più perché nel caso dell'arte, nel caso della musica e soprattutto in una situazione economica del mondo della musica come quella attuale, è di vitale importanza il fatto che i fans abbiano una relazione diretta con i propri beniamini, con la band della quale carica nel proprio lettore MP3, nel proprio iPod, le canzoni e le ascolta al mattino mentre va al lavoro. Tutto questo genera una sorta di connessione e di fiducia che si instaura tra i fans e la band, i fans e l'artista, o se vogliamo vederla da un'altra angolatura, che si instaura tra il venditore, colui che produce musica, e l'acquirente, ossia la band, ossia il fan, e tutto ciò agevola anche, potremmo dire, le vendite, insomma, in definitiva. Agevola quel processo di preproduzione esecutiva che ho in mente io, di far sfruttare quella band che sceglierò per iniziare il percorso seguito direttamente da me e dal mio staff, che permetterà a questa band di autoprodursi i brani e i dischi senza dover anticipare sulla spesa, cioè senza dover per forza trovare dei fondi, chiedere alla mamma, al papà, chiedere un prestito per andare in studio di registrazione. Queste cose qua devono avvenire grazie a un produttore esecutivo, almeno una volta era così, c'era una persona che investiva sull'artista, cacciava i soldi, comprava le sessioni in studio di registrazione, la stampa dei dischi, la promozione, eccetera, eccetera. Oggi tutto questo non sta più avvenendo perché non c'è più disponibilità di grandissimi capitali da investire su ogni band che ha delle buone idee, perché di band, di artisti, ce ne sono veramente tantissimi. Però c'è la possibilità di promuoversi come band, come artista a livello molto capillare grazie ad internet e trovare moltissimi mini produttori esecutivi che assieme fanno un produttorone esecutivo, se non proprio un produttorone da centinaia di migliaia di euro che potrebbe anche tranquillamente essere ed in effetti ti presenterò dei casi studio a brevissimo proprio per farti capire che non sono fregnacce quelle che sto dicendo. Sicuramente si riesce comunque a trovare una preproduzione di qualche migliaio di euro insomma che ben volentieri può aiutare l'artista ad andare in studio a creare in tutta tranquillità in tutta serenità dei contenuti musicali dell'arte veramente degni di nota. In un certo senso si tratta di il sistema scuola suono per vivere di propria musica si tratta di un metodo brevettato diciamo beh più che brevettato estratto da varie conoscenze che ho nel campo del marketing tradizionale online e da altre considerazioni che fa in modo di in parte anche di riuscire a vendere il proprio disco prima ancora di averlo creato di venderlo come si fa con con le ville sulla carta io ho un terreno sto per costruire una villa te la vendo a me non se me la compri in anticipo poi ogni tanto ste ditte falliscono e chi ha comprato si ritrova in una brutta situazione però questo non ha a che vedere con il mondo della preproduzione della micro preproduzione musicale come quella che ho in mente di ottimizzare di far ottimizzare la band che sceglierò dunque veniamo al dunque così oggi concludiamo molto rapidamente in questo momento hai un compito per casa che puoi svolgere per due ragioni la prima è per posizionarti ulteriormente in alto nella classifica delle band che sto valutando e la seconda è proprio per mettere in pratica i suggerimenti che ti ho appena detto al di là del fatto se ti interessa o meno di essere seguito direttamente da me che ho alcune idee insomma e il compito è questo e questa volta sono sono serio cioè è una cosa che ti invito veramente a fare perché ti aiuterà da qua in poi se lo fai una volta lo fai la seconda lo fai la terza alla quarta sarai già una scheggia nel registrare i tuoi video ti invito a creare una video presentazione di te della tua musica della tua band corta stiamo parlando di un video di 5 o 10 minuti tecnicamente non chissà che basta una webcam un microfono basta un cellulare per assurdo basta un amico del gruppo che viene in cellulare e fa il giro della band e ogni componente della band si presenta e poi tutti assieme suonate un brano voglio vedere nella band che sceglierò la predisposizione la voglia di mettersi in gioco e questa predisposizione lo si vede la si può notare in due fondamentalmente per quanto riguarda due cose il primo è il fatto di seguire i miei suggerimenti cioè di essere abbastanza malleabile perché se ho se devo trovarmi a che fare con una band che qualsiasi cosa dico solleva dei dubbi qualsiasi cosa propongo dice che non ha voglia che è troppo difficile che è troppo stancante allora sicuramente questa non è una band che fa al caso nostro perché noi dobbiamo creare un caso studio grazie al quale anche tutte le altre band possano lavorare in questa maniera la differenza sarà che la band che sceglierò io sarà seguita da me direttamente quindi avremo un grado di interazione che con gli altri non sarà possibile avere e tutto questo per questa band qua ovviamente sto anticipando qualcosa sarà gratuito non è non è pensabile io adesso qua sto dando molti contenuti gratuiti ma le strategie che ti potrò insegnare che sono quelle strategie che veramente ti possono portare a crearti un bel giro di fans coproduttori delle tue produzioni artistiche ebbene quello è un materiale che comunque seppur potremmo dire è un prezzo simbolico molto molto popolare però non è non è pensabile per quanto mi riguarda di regalarlo gratuitamente quindi sicuramente allora la band che sceglierò avrà questi questi vantaggi stavo dicendo che il primo discorso è che la band deve essere una band che segue i miei consigli e il secondo punto fondamentale è che questa band deve essere pronta a mettersi in gioco e a fare e a fare dei video a mettere la propria faccia a raccontarsi un po' perché questo grado in interazione col pubblico permetterà di fare davvero grandi cose di fare davvero la differenza rispetto a tutte quelle band che si sentono un po' timide non hanno voglia di fare non ci credono tanto ebbene staremo a vedere insomma chi chi ce l'avrà vinta in questo senso devo dire un'altra cosa molto importante in questa settimana a questione di qualche giorno avrò l'onore il piacere di intervistare un personaggio che penso ti potrà davvero dare una mano nella nella situazione di autoproduzione autopromozione nella quale molto probabilmente ti trovi si tratta di Andrea il presidente allora aspetta dico il nome completo che me lo sono segnato Andrea Marco Ricci presidente di notelegali.it che è un un servizio un'associazione che si mette a disposizione delle band per consulenze legali fiscali collegate al al discorso del copyright eccetera eccetera diciamo tutto l'aspetto burocratico tecnico fiscale per quanto riguarda la gestione delle vendite di musica della band della partecipazione ai concerti del farsi pagare eccetera eccetera tra l'altro se non ho visto mai se non ricordo male nel loro sito del quale ti metto il link qua sotto c'è anche un servizio di recupero crediti per le band mi pare qualcosa del genere comunque è una situazione davvero molto interessante ebbene noi a scuola suono abbiamo l'onore di avere l'esclusiva dell'intervista audio che poi rimarrà ovviamente scaricabile sul sul sito scuolasuono.it con questo personaggio che è una persona molto gentile molto umile come vedi tutti quelli che collaborano con con scuola suono come ad esempio Stefano Castagna che ha fatto una intervista meravigliosa che ti invito veramente ad andare a scaricare ad ascoltare perché ti aiuta anche quello in qualcosa collegato alla produzione alla preproduzione alla alla promozione all'autopromozione eccetera eccetera tutte queste persone che stanno collaborando con scuola suono.it sono quelle persone che a me piacciono ci sono non voglio fare nomi però c'è un fonico che ho conosciuto nella mia vita che si chiamano non te lo dico che è uno dei fonici più bravi che io abbia conosciuto però è una persona talmente ostile e talmente antipatica che anche se so che mi avrebbe concesso un'intervista ho scelto io di non di non intervistarlo e di non usufruire diciamo così delle sue conoscenze per divulgarle sul sito scuola suono.it perché non fa parte di quella cerchia di simpatici che mi tutto sommato non gli sto troppo antipatici mi apprezzano leggono le mie mail guardano i miei video e quindi diciamo le persone con spirito collaborativo sono ben accette su scuola suono.it Andrea di notelegali.it sarà veramente sono sicuro una persona di questo tipo non lo conosco di persona ci siamo sentiti per telefono ma dalla sua disponibilità sarà un'intervista davvero interessante perché parleremo anzitutto di come regolamentarsi a livello fiscale per vendere la propria musica senza dissanguarsi gli chiederemo se è possibile come sai io sono molto ligio su questo perché l'ultima delle cose delle quali ho bisogno è una sanzione per qualcosa di sbagliato che sto facendo quindi qualsiasi cosa io vendo la fatturo sempre cerco di fare veramente tutto nel mio possibile tutto in regola poi siccome le cose da fare sono talmente tante sicuramente qualcosa mi sfuggerà come a tutti quanti ma il mio intento se tu controlli la mia contabilità è veramente rigorosa quindi parleremo sicuramente di un aspetto fiscale di come mettersi in regola per poter vendere la propria musica dormendo sonni tranquilli oppure gli chiederemo anche quali sono attualmente le sanzioni previste qualora questo non avvenisse e oltre a questo interessantissimo argomento parleremo anche di diritto d'autore di come tutelare i propri brani con delle alternative alla CIA eventualmente più economiche più efficienti oppure chiederemo insomma se ci sono queste alternative come si possono sfruttare quali sono i pro e i contro insomma quindi sei assolutamente invitato a registrarti all'evento per registrarti basta che controlli qua sotto il video nella pagina di scuola sono.it troverai un form di registrazione che mi consente diciamo di separare i non interessati a questo argomento dagli interessati ai quali proporrò diversi nuovi contenuti diversi nuovi video quindi se sei interessato a continuare ad essere avvisato per quanto riguarda il sistema scuola suono per vivere della tua musica con 2500 euro al mese e tutti gli annessi e connessi ebbene devi registrarti nel modulo qua sotto nome e email come al solito viene registrato sempre in una solita lista email ma dedicata a questo argomento perché se tu sei semplicemente interessato alle chitarre o all'home recording e non ti interessa niente di vendere la tua musica non ha senso che ricevi delle email in continuazione ecco perché ho tanti form di iscrizione a varie newsletter per cercare di non rompere le scatole a chi non è interessato a un certo argomento so che è un po' macchinoso lato user diciamo così dal lato tuo però mi aiuta a non romperti le scatole quindi sei invitato calorosamente ad iscriverti in questo momento e verrai avvisato non appena avremo questa intervista fresca fresca messa sul sito detto questo ti saluto ti abbraccio ti auguro un buon proseguimento con la tua musica sotto con le band sotto col cercare di convincermi che sei tu l'artista o la band da scegliere perché l'opportunità è veramente unica non credo che la ripeterò quindi uomo avvisato mezzo salvato ciao da Francesco Nano bentornato su scuolasono.it e ci vediamo la prossima volta ciao come al solito non riesco a spegnere ecco sì ciao